Il balsamo fortificante è studiato per tutti i tipi di capelli, in particolare i capelli deboli, sfibrati e danneggiati dai raggi UV o dai trattamenti aggressivi. Può essere utilizzato tutto l'anno, in particolare alla fine dell'estate e dell'inverno, quando i capelli sono sfibrati e provati dai fattori esterni, come la luce solare, il vento o il gelo. Il balsamo fortificante contiene molti ingredienti benefici, tra cui il Kerastore 2.0, un derivato attivo della cheratina, che garantisce una rigenerazione completa ai capelli danneggiati e reintegra la loro struttura naturale. Contiene anche dipantenolo, cioè un precursore biologicamente attivo della vitamina B5, che si trova naturalmente in tutti i tessuti viventi e ha la straordinaria capacità di legare l'acqua. Un altro ingrediente prezioso che potenzia il balsamo fortificante è l'estratto di seta. Caratterizzato da proprietà filmogene, rende più facile lo styling dei capelli, previene l'elettricità statica e protegge i capelli dai nocivi fattori esterni, raggi UV, prodotti chimici aggressivi e inquinamento ambientale. Migliora istantaneamente la condizione dei capelli, leviga e nutre, così come ripara le doppie punte. Il balsamo fortificante rigenera la struttura del capello danneggiato e rimedia le sue carenze. Idrata efficacemente i levighe capelli, ne aumenta la flessibilità e luminosità, riduce la caduta dei capelli causata dalla loro fragilità, oltre a districarli. Se usato regolarmente, il balsamo fortificante nutre e ammorbidisce istantaneamente i capelli e li rende più facili da gestire. Come dovrei utilizzare il balsamo fortificante per ottenere i migliori risultati? Applica il balsamo sui capelli lavati e tamponati delicatamente. Inizia dalle punte e sali verso l'alto, seguendo l'intera lunghezza dei capelli, evitando la cute. Applica la maggior quantità di prodotto sulle parti più danneggiate, che necessitano di intensa rigenerazione. Lascia agire per 5 minuti e poi risciacqua abbondantemente con acqua. Per migliorare i risultati, prima di usare il balsamo, lava i capelli utilizzando l'or shampoo fortificante della linea al collagene Souvre. Il balsamo fortificante è molto economico da usare. Un flacone da 300 ml è sufficiente per circa 30 applicazioni. inizia a tutti. .